Io sono dell'Eritrea, mi chiamo Sgaria, ho vissuto anche già giù in Eritrea insieme agli italiani, quindi l'italiano sapevo già quando sono venuta in Italia. Avevo desiderio di venire in Italia, lavorare, guadagnare, tornare giù e fare qualche attività, però non è andato così perché io sono venuta nel 75 e mentre era lì è scoppiata la guerra e non abbiamo potuto tornare. E allora rimanendo in Italia abbiamo costruito la famiglia. Facendo così si siamo stabiliti in Italia, quindi da una parte mi sento Eritrea e da una parte mi sento anche italiana.